Fare l'assistente segreto ci ha preparato un labirinto abbastanza problematico devo dire E ho visto Perché è fatto tutto di porte ed è gigantesco e non si capirà nulla ne sono sicuro E non ci troveremo mai Allora l'unica cosa che mi ha detto è che è pieno di ceste Dentro le ceste ci sono armi da fuoco Ok E più vai verso il centro del labirinto più sono forti le armi da fuoco Perfetto Quindi diciamo che viene ricompensato di riuscire ad avanzare in questo labirinto Ovviamente uno contro l'altro quindi siamo in una sfida uno contro uno Però secondo me ci sarà più di un round perché non credo che dureremo così tanto Secondo me dopo un pochino di tempo ci iniziamo a trovare Vabbè che fai si perderà malamente Allora aspetta che io prendo le pistole e colpi scusami un attimo Facciamo due caricatori dovrebbero bastarmi Allora pronta Anch'io l'ho preso due però no uno due allora ne prendo Vado? Sì Andiamo Allora Ah io qua fuori avevo già un'arma Anche io ma un'altra pistoletta No io ho trovato roba bella La lascio qua sinceramente Ok qua cosa abbiamo Ebbè M416 Grazie gioco Pieno di ragnatele che ti rallentano Steph Grazie gioco Un'altra cesta Un'altra cesta Bello non so cosa sia però mi sembra bello dal suo caricatore RP RPK74M Mio due Ok Io ho trovato uno Ok Allora M416 Perfetto Aspettate che tolgo tutte le munizioni da qua raga che altrimenti non ce la facciamo a combattere Io con questo vengo a ucciderti AK15 Appena trovato pure io Ah Ma qui che c'è? Iniziamo a ricaricare Sono al centro Sono al centro Cosa vuol dire? Prendo tutte le armi Prendo tutte le armi Cosa tutto c'era? È pieno tutto Solo AK15 Steph una pistoletta che ti lascio per quando arriverai qua Il problema è che c'è una cassaforte Sì ma Io ti avviso su una cosa Ho appena trovato una trappola Come una trappola? Sì quindi occhio dove metti i piedi Ah quelli di lava? Sì L'ho vista anch'io Il problema Steph è che al centro Ma si arriva con la cesta Aha C'è una cassaforte gigante ma non la posso aprire Eh mi dispiace Mi dice che è bloccata Che tristezza Accidenti Questa è una cosa brutta Eh saprà Steph come risolvere Ah l'avevo anche già presa con la cesta raga Non ci capisco già più nulla Allora Questa è carica Ricarichiamo questa È caduta nella lava No Steph È tutto a posto È caduta nella lava C'era solo un po' di caldo No non l'ho vista Era messa proprio bene Ok Era proprio nascosta Allora Andiamo tipo di qui Ma dove ci dimenti sei Steph Che stai luttando e basta Vieni a combattere E mi son perso Che cavolo vuoi E poi io E allora Poi le ragnatele Ragnatele Odiose Io sono dove c'è un portone Di una cassaforte Ma è aperto È d'oro Ed è aperto Ah no Io ero in un portone Allora ci sono centri diversi E il mio portone era nero 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 Questo non sembra un centro Però Eh non so dove sei C'è un portone gigante Mettiamola così Allora andiamo di qua È bellissimo sto labirinto comunque Sì ma mi sto perdendo un sacco Raga ho depositato munizioni da qualche parte per sbaglio Secondo me sì Boh vabbè pazienza Sono davvero poco furbo Ah di AK15 è davvero pieno Sono poco furbo Basta Ok Stavo ancora prendendo fuoco Steph Io sono equipaggiato davvero bene Te lo dico Mi sono caricato un sacco M416 Lo ho già Io certe ceste Non riesco a raggiungerle Cioè sono chiuse tra porte E porte E porte E porte E invece Steph se la cava bene Per quello poi ci metto una vita Ma sai che neanche per sbaglio ti ho mai vista? Neanche io Ma neanche ho idea di dove tu possa essere Esatto C'è difficilissima sta roba So soltanto che sto trovando zone Che chiaramente Non hai lootato Qua tu hai preso i colpi Quindi questo l'hai lootato tu Perché ho trovato un M416 Senza i colpi Quindi tu sei stato qui Oh cavolo Questa zona è un casino rispetto a davvero io Cioè non ci troveremo mai Prima o poi Oh ho trovato il portone giallo Però è già aperto Eh sì Grazie per l'info Ora io so dove sei Ma tu non sai dove sono Ma io mi sono già spostata Ma che pensi che rimango là? Ahà Ma secondo te Hai paura? No per niente Io ne avrei Io sono già pronta Come si spara con queste armi? Col sinistro? Col sinistro Tu lo sai? Sì sì Perché ogni volta è diverso E poi mi confondo Ti ho visto Ti ho visto Stavo luttando Vai via A vicenda Uno pari No Uno pari A vicenda Però adesso risparmiamo già con le armi Quindi è tutto più semplice Allora Ridicarico Allora aspetta che mi sistemo anche l'inventario Dove l'ho messo male Voglio questa qui Intanto i caricatori me li posso lasciare anche dentro l'inventario Di questo non i colpi perché te li sei sgobbato tutto tu Ah non hai metto i colpi di un'arma? Dell'M4-16 Oh povera Io ne ho un sacco Perché dalla mia parte non mi sembra che ci fossero Capito? E li ho trovati poi dalla tua Ma tu li avevi sgobbatti Ho trovato solo l'arma Sai che sono già in giro vero? Certo anch'io sono già in giro Che pensi che sto perdendo tempo Mi hai quasi ucciso Mi hai quasi ucciso porca miseria È forte quest'arma È molto forte Quale stai usando tu? La K15 A chi? È forte Eh beh lo immaginavo fossero più forte quindi l'ho utilizzata subito Sì a livello estetico mi ispirava un sacco Mi ho approfittato comunque del fatto che ci hai messo un sacco a sistemarti l'inventario Ed ero già in posizione migliore delle tue Maledetto Maledetto Eh vabbè però non vale dovevi aspettare due secondi Eh no Eh no perché avrei dovuto aspettare Io non dovevo sistemare Perché devi fare il galanturo Io le cose me le sistemo mentre fai Ok 2 a 1 quindi Cioè non si vede niente Io pensavo con le porte Siccome le porte sono bucate Sarebbe stato semplice Ma è talmente fitto che non si vede una ceppa Opla Ok Devo togliermi un attimino L'autogump è insopportabile come sempre Non so perché sto gioco continuo a metterlo Dove sei? Dove cavolo sei finita stavolta? In mezzo a una porta Devebbe far ridere? Sì Stanno tutti ridendo Non li senti Non è morta Ma Non ho più proiettili Mi sta Dove stai andando? Quando ricarichi è strano Ti rimette sempre lo stesso caricatore Quindi io devi scaricare del tutto E allora a quel punto premier ti ricarica No serio? Già Ma che senso ha? Non lo so Vabbè penso di aver ricaricato Lo vedi in alto a destra Quanti colpi hai? Ho tirato poi dei colpi All'aria Che si c'era? Ho tirato dei colpi all'aria Ho visto che ce li avevo Mi sembra un po' in difficoltà Uuu Presa le spalle Anche se ne era accorto L'hai sentito Steph Allora prima di tutto Hai rotto le scatole ogni volta A riusare le mie citazioni L'hai sentito i proiettili Punto uno Punto due Ma cavolo eri nascosta Non ero nascosta Ti stavo seguendo zitta zitta Ma ero sicuro Fassi davanti a me Evidentemente non eri così sicuro Ok no magazine Quindi li ho finiti tutti Secondo te No devi ripremere R Se non ti ricarica nulla Sì Ok Ha finito i colpi dell'arma più forte No è impossibile Ok li ho rimessi No sono piena di caricatori Vedi ora sei ad otto Tu devi sparare verso A raffica Spara 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 Tutto Tutto No Me lo vuoi far consumare No E filati mandala a zero L'ho capito Steph Non c'è bisogno che voglio No Fare se non lo fai Io non vado avanti Ora premiere Ok Ripremiere Ora un caricatore full Altrimenti avevi un caricatore L'avevo già fatto L'avevo capito Quando me l'avevi detto Avevi quattro colpi Ma perché mi devi fare Vabbè Saresti morta Tu sei morto Vabbè Ma l'ammazzo 2 a 2 ma l'ammazzo Ditta niente Ti distruggo Io ti distruggo Eccola Non è vero Stai feicando Va bene Sei un fake Sei un falso Hai sentito? Sei un falso Non è vero Mi stai cercando di giocare Stai sparando a bambela Steph Va bene Momentini di silenzio Ciao Siamo incastrati Ciao cara Ti prendo attraverso la porta No Che si fa? Via Dov'eri? Schifoso Dov'eri? Te l'ho detto che ti avrei preso stavolta Ho fatto un po' di cosettine E ti sono finita alle spalle Io non ho trovato a strade Mi portava sempre in giro Sei caduta in una trappola? Sì Mi dispiace Sono infime Ma molto Ma molto Non ti accorgi Perché non te le aspetti Ti dimentichi che ci sono E va così No io guarda A un certo punto Lo sapevo pure Ma era talmente nascosta Che Gerondolando non ho visto Allora Dovremmo essere 3 a 2 per me La prossima kill Stai fermo un attimo No Ferma Che vuoi? La prossima kill vale 2 Quindi chi fa la prossima kill Ha vinto Tu non sei fermo Scegliamo un'arma da utilizzare Io sono fermo Provo l'RPK L'RPK 74M? Sì Solo quello Quindi No le pistole no Perché altrimenti Mi avanza solo quella Capisci? Se mi hai già visto Ti distruggo Guarda Sì ti ho già visto Davvero Ti ho riperso Davvero? Eh sì Che vuoi? Non ti ho mai Minimamente neanche vista Dai Come hai fatto? Di riflesso Mi è venuto un accidenti Terribile quest'arma Io non ho mirato con questa Perché mi hai fatto venire un accidenti Incredibile Ma io non sto mai mirando Perché non hai tempo Comunque una tattica Che secondo me vale È che io ogni tanto ho fatto Ok? È che tu puoi salire sulle chest È vedere un pochettino Il più di fronte a te No non vale Io non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatto Stef E non si fa E beh No non si guarda Traversi Scusa E ci sono le chest E allora guarda Mi metto qua Stef Chissà dove sei Chissà dove sei Vero? Dai non si sale sopra Le porte sono basse Non vale Io non l'ho mai fatto In ogni caso hai perso No hai perso No hai perso Ma mira questa arma Effettivamente Fa proprio schifo Aia Nascosto Stef Stai nascosto Vuole rubare questa win All'ultimo Ma lei non sa che io so A vicenda? Sì Volevo dirti Chi fa questa kill vince Per fare la remontata Ma a parità Va bene Va bene Beh basta Stef In ogni caso Ci fermiamo così Fateci sapere se vi è piaciuto Questo fight Nel labirinto di porte È stato davvero complicato Gestirsela Ma anche parecchio divertente Molto divertente Secondo me ci sta la grande Qua sotto compagnia Nell'altro video Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina Se ancora non avete fatto E ci fermiamo così Ciao ciao